L'opera riacquista straordinariamente luce e riesalta in maniera direi quasi commovente e anche ce lo fa scoprire questo Lorenzetti straordinario la qualità artistica del Lorenzetti. Lorenzetti ha una tecnica artistica incredibilmente anche moderna perché conduce la stessura del colore nelle sue strati finali a velature come poi si farà nella pittura successiva. Una delle più celebri opere pittoriche del 300 torna a casa. Dopo un lungo e complesso restauro che si è protratto per ben sei anni il politico di Pietro Lorenzetti raffigurante la Madonna con bambino, Santi, Annunciazione e Assunzione è stato ricollocato nella pieve di Santa Maria ad Arezzo. Una volta arrivata in studio l'opera nel settembre del 2014 abbiamo fatto le analisi diagnostiche con Thierry Radelè, nostro collega di Torino. Quell'occasione abbiamo fatto anche dei saggi di pulitura, cioè delle prove di rimozione dei materiali superficiali apposti nel restauro del 1976. Un restauro fatto di urgenza perché ci fu un tentativo di incendio. Tutte queste incisioni erano diventate nere perché piene di sporco sedimentato nei secoli e facevano un effetto non di brillantezza ma di disegno grafico nero sul fondo. Inoltre tutta la superficie colorata è stata ricontrollata sempre sotto il controllo, sotto l'ausilio del microscopio e abbiamo rimosso uno sporco molto più antico, disomogeneo, ma che annullava la tecnica così preziosa del Lorenzetti che ottiene i chiariscuri grazie a delle pennellate sottilissime sovrapposte di colore. Adesso lo vediamo completato ma una volta rimossi tutto il ristauro pittorico del 1976 si evidenziavano moltissime piccole cadute di colore. Nella fattispecie, nella veste del San Donato, il santo sulla sinistra, protettore di Arezzo, erano presenti anche dei graffiti, delle incisioni che inizialmente avevamo quasi deciso, proposto di lasciarle come testimonianza di devozione. C'era anche la data in cui le persone avevano iscritto il proprio nome come preghiera, come voto nei confronti del santo protettore della città, ma Don Alvaro ha detto ma più che segno di devozione mi sembra un segno di imbecillità, quindi documentatelo ben bene con le fotografie e ricopriamolo con il colore solamente laddove c'era il graffito. Il restauro costato oltre 300 mila euro è stato finanziato grazie ad un'attività di crowdfunding portata avanti dall'associazione Art Angels. In questo momento l'impossibilità di portare avanti le iniziative che Art Angels fa ci ha fatto aprire ad un'altra strada molto più moderna e quindi abbiamo aperto una campagna, abbiamo lanciato una campagna di crowdfunding attraverso la piattaforma MiFundMe che sta avendo dei buoni risultati perché dobbiamo coprire interventi collaterali al restauro del politico che peraltro sono indispensabili per la sua ricollocazione, si parla dell'illuminazione dell'opera in pieve, si parla della struttura di sostegno dell'opera in pieve, della sistemazione del coriolineo che è dietro l'altare, quindi siamo impegnati in questa raccolta impegnativa perché gli importi finali non sono poco, sono circa 77 mila euro quindi nuovamente tanta roba e ci auguriamo di trovare la sensibilità che cerchiamo. Art Angels come nel suo motto si prefigge di portare i cittadini ad aiutarci a mettere le ali alla cultura, credo che sia uno degli elementi fondamentali per il nostro futuro proprio per la situazione in cui ci stiamo trovando ormai da un po' di tempo.